La Notte Magica, Borgo Tossiano, sabato 13 luglio 2019. Alle ore 19 apertura stand gastronomico, dalle 19.15 aperitivo musicale con il gruppo Musica d'Insieme con i ragazzi del campo estivo. Alle 19.30 musica con i Fazer & Son. Alle 20.30 partenza della Camminata Sotto le Stelle. Alle 21 spettacolo con Asia Drag Queen Show. E alle 22 la Crisi, concerto tribute band italiana. Da mezzanotte si balla con Musica Dance e a seguire i magici famosi Bomboloni Caldi. Vi aspettiamo a Borgo Tossegnano sabato 13 luglio 2019 per una Notte Magica.